I cambiamenti climatici mettono a dura prova i nostri territori, lo abbiamo visto a più riprese. L'attività del Consorzio di Bonifica è un'attività preziosa per la manutenzione ordinaria dei nostri corsi d'acqua. Proprio in questo periodo abbiamo sviluppato insieme agli amministratori locali il piano dell'attività per il 2023, un piano dell'attività ricco e attento alle esigenze del territorio. Purtroppo però abbiamo visto che in tanti casi l'attività del Consorzio non è sufficiente perché troppo spesso c'è bisogno di nuove opere o di opere straordinarie per riportare i nostri territori a un livello di sicurezza e di resilienza maggiore. Abbiamo spesso constatato che scelte non troppo curate in passato, soprattutto in termini urbanistici, oggi rendono questi territori estremamente fragili. C'è bisogno quindi di una visione politica nuova, di scelte coraggiose e di risorse perché il territorio del nostro compensorio sia sempre più resiliente e sicuro per i cittadini.